Ciao a tutti, buono visto questo ectorelio della pegnola, ho il bene spinto, se ne andiamo a montare le pegnola Oh che vi si parli di allegria Allora, ho vinto la scheria O quando ho vinto, diciamo tutti 3 euro e 45 3 euro e 45 Adesso, vabbè, però non dico quando ho puntato Non ditelo Perché il profitto non è tanto alto Vabbè, il ricavo E insomma, che volevo dire qua Siamo in una fantastica serata, veramente La bella serata Ecco, guarda andò Ecco, sono io questo, chi è? Bello Speriamo che ci sia un nuovo video, presto Ma non so qual'argomento trattare Ormai vinco sempre schedine Sono 2 schedine su 3 che vinco E ho guadagnato più di 20 euro No, 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 va bene No, non miti Buona 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 Buona